Il digitale terrestre con il canale Mediashopping Questa è una pubblicità calda, molto calda, ma che dico calda, hot, very hot, questa è la pubblicità per l'ecoestate Fiat Signora, sentendo la mia voce, ha le vampate, tranquilla, in questa panda c'è anche il climatizzatore È arrivata l'ecoestate Fiat, grazie agli ecoincentivi Il panda da 7500 euro con clima più 7 anni di finanziamento anticipo zero Per vi aiuto? Grazie, ma si è rotto il manicotto Ci penso io Ti ringrazio, ma non c'è bisogno Silenzio Ecco dov'era No, no, che fai? No, no, no A posto Accendi Come hai fatto? Solo con tre puoi avere il nuovo SmartPak La prima ricaricabile nata per gli smartphone, con internet ai minuti inclusi Allora, hai fatto? Sì, fatto Dove andiamo? Sempre avanti con la 3 3 Naviga su sportmediaset.it Tra i mondiali di calcio, gli affari e le trattative del calcio mercato Le sfide della MotoGP, i circuiti della Formula 1 Sportmediaset.it Lo sport in tempo reale, ovunque tu sia, anche sul telefonino Italia 1 Moto Mondiale 2010 Assen, Gran Premio d'Olanda Domani a mezzanotte e cinquanta, sintesi prove libere Venerdì alle 13.30, Grand Prix Moto, con la diretta delle prove ufficiali Sabato, dalle 10.45, il via alle gare delle classi 125, Moto2 e MotoGP Al termine fuori giri Moto Mondiale 2010 Italia 1 mette in moto O Grazie a tutti.